Piedra Mezzana Questa che cos'è? Senta io sono un chirurgo estetico Ecco io potrei veramente fare qualcosa per sua moglie magari Così lei è un dottore Un dottore verrà a Pietra Mezzana Abbiamo un mese per convincere il dottore a firmare un contratto a tempo prolungato Dobbiamo far innamorare Gianluca Terragni di Pietra Mezzana Tenetevi forte eh? Perché è pericolo gioco Questo è il suo profilo Facebook E' appassionato di cricket Il cricket è uno sport Ce la possiamo fare E' facile Vabbè poi alle divise ci pensiamo dopo Possiamo migliorare Senti è com'è il paese Un buco in culo al mondo Volevo dire che è un posto delizioso Ecco Incredibile oh Tutti i giorni trovo 5 euro Ma veramente Comunque il vostro piano mi fa schifo Eh bravo Emergenza Tutti al mare It's not the cricket Ah questa se ci va di culo e siamo fortunati Dura anche 5 ore Sai cosa mi andrebbe adesso? Un sushi e sashimi sotto casa La vedo tu ora amore Buonasera Salve Cosa avete da mangiare? Sushi e sashimi Oh E' da mo E' da mo